Alcune di queste donne, dopo una serata col marito o la famiglia, sono venute qui per una breve visita. Altre invece per passare la notte fuori. Riesco a capire quelle che hanno un marito, ma tu e Dorothy che bisogno avevate di tanta riservatezza? Dorothy temeva che la cosa potesse ostacolare la sua carriera. Probabilmente aveva ragione. Quanti poliziotti ci sono dove lavori tu? Siamo 78. E quante sono le donne? Tre. Tu allora, che cosa fai per passare una serata fuori? Te ne vai al bar con tutti quegli uomini che parlano a colpi di testosterone? A me piace il testosterone. Fa concludere. E non devo nascondere dove ho passato la serata. E a tuo marito non importa. Io non sono sposata. Divorziata? No. I poliziotti non sono tutti sposati o divorziati? È questo che pensi?